persevera come hai cominciato e affrettati quanto sei in grado potrai così godere più a lungo di un animo puro e sereno anzi ne godi già mentre lo correggi mentre lo acquieti ma ben altro piacere è quello che si riceve dalla contemplazione di un'anima immacolata e limpida certo ricordi la gioia provata quando sostituisti la veste da fanciullo con la toga virile e fosti condotto nel foro ebbene aspettane una maggiore quando avrai deposto l'animo infantile e la filosofia ti avrà registrato fra gli uomini poiché la tua non è puerizia bensì cosa più grave puerilità e quel che è peggio noi abbiamo l'autorità degli anziani e i difetti dei bambini anzi non dei bambini ma dei neonati i bambini hanno paura di sciocchezze i neonati di false immagini noi di tutte e due cerca di progredire capirai che certe cose proprio per questo sono meno da temere perché fanno molta paura nessun male è grande sei l'ultimo la morte ti viene incontro la dovresti temere se potesse rimanere con te ma necessariamente o non è ancora arrivata o passa oltre è difficile ribatti indurre lo spirito a disprezzare la vita ma non ti accorgi per quali insulsi motivi essa viene disprezzata uno si impicca davanti alla porta dell'amica un altro si butta giù dal letto per non sentire più le sfugiate del padrone evaso si fica un pugnale in corpo per sfuggire alla cattura non pensi che si possa compiere per coraggio un'azione che si compie per eccessiva paura non può vivere una vita serena chi si preoccupa troppo di prolungarla e annovela fra i grandi beni i molti anni vissuti tu invece preparati ogni giorno a lasciare serenamente questa vita a cui tanti si avvinghiano e si aggrappano come chi è trascinato via dalla corrente si aggrappa ai rovi e alle rocce i più ondeggiano infelici tra il timore della morte e le angosce della vita non vogliono vivere né sanno morire abbandona ogni preoccupazione per la tua esistenza e te la renderai piacevole possedere un bene non serve a niente se poi si è pronti a perderlo e i beni la cui perdita è più facilmente tollerabile sono quelli che perduti non possono essere oggetto di rimpianto fatti dunque animo e corazzati contro i casi che possono capitare anche ai più potenti nella vita di pompeo decisero un ragazzino ed un eunuco di quella di grasso un parto crudele barbaro gaio cesare impose all'epido di porgere il collo al tribuno destro ma poi lui stesso forse il suo accherea la sorte non ha innalzato nessuno tanto da non ritorcere contro di lui quanto gli aveva concesso di fare non fidarti della momentanea bonaccia fa presto il mare ad agitarsi nello stesso giorno le barche affondano là dove si erano spinte per di porto pensa che tanto un bandito che un nemico possono puntarti un pugnale alla gola in assenza di un'autorità più grande ogni servo ha potere di vita e di morte su di te voglio dire chiunque disprezzi la propria vita è padrone della tua ricorda gli esempi di uomini uccisi dai propri schiavi o con aperta violenza o con l'inganno ti renderai conto che il furore dei servi non ha causato meno stragi dell'ira dei re che ti importa dunque quanto sia potente l'uomo che temi quando il male che temi te lo può fare chiunque metti il caso che tu cada in mano ai nemici il vincitore comanderà di condurti proprio là dove stai andando perché inganni te stesso e ti rendi conto solo in quel momento di una cosa che subivi da tempo ascoltami verso la morte sei spinto dal momento della nascita su questo e su pensieri del genere dobbiamo meditare se vogliamo attendere serenamente quell'ultima ora che ci spaventa e ci rende inquiete tutte le altre ma per mettere fine alla mia lettera senti il pensiero che ho scelto oggi anche questo l'ho preso dal giardino di un altro è una grande ricchezza la povertà regolata dalla legge di natura li conosci i consigli che ci ha fissato la legge di natura non patire la fame nella sete nel freddo per scacciare la fame e la sete non occorre sedere presso la soglia di superbi padroni né sopportare una fastidiosa arroganza e una cortesia affettata e perciò offensiva non è necessario affrontare i pericoli della navigazione o partire per la guerra quanto esige la natura è facile a procurarsi e a portata di mano e invece ci affanniamo per il superfluo ecco che cosa logora la toga cosa ci costringe a invecchiare sotto una tenda e cosa ci spinge in terre straniere mentre quel che ci basta è a portata di mano chi si adatta bene alla povertà è ricco stammi bene